Se hai attraversato un'esperienza davvero brutta, è una buona esperienza, perché queste sono inestimabili. Il valore di vite, di esperienza, decisamente non può essere buttato via. È necessario. Il ricordo dell'esperienza è l'unica cosa che ti può portare saggezza. Devi imparare ad essere felice con le tue compulsioni. In ogni caso hai la compulsione. Se non sei felice con essa, ora hai due problemi, la compulsione e l'infelicità. Almeno se hai un problema, è più facile gestirlo. Hai le tue compulsioni. Impara a guardare ciò gioiosamente. Questo non significa che sei felice delle tue compulsioni. Sei felice. Perché parliamo sempre di gioia e amore e simili? È per mantenere la mente piacevole. Per mantenere l'emozione piacevole. Perché quando la tua mente e le tue emozioni sono piacevole, tu sei flessibile. Possiamo fare molte cose con te. Quando la tua mente e le tue emozioni sono spiacevoli, diventi rigido. Non si può fare nulla su di te. Quindi già hai un problema. Non creare il successivo. L'infelicità è spiacevolezza. Ora, quando sei in uno stato di spiacevolezza, nessuno può toccarti, nessuno può aiutarti, nessuno può fare nulla con te. Se sei in uno stato di piacevolezza, sei disposto a essere plasmato in una forma diversa. Non è così? Quando sei in uno stato di spiacevolezza, non sei nemmeno disposto a essere toccato. Quindi, l'infelicità è un problema più grande di qualsiasi dannata compulsione tu abbia. Un problema molto più grande. Perché ora non puoi essere toccato. Non puoi essere plasmato. Non puoi essere aiutato. Quindi, prima sistema questo. Qualunque assurdità tu sia. La prima cosa è impara a essere gioioso e amorevole. Ora è facile lavorare con te. È facile aiutarti. È facile venirti incontro. È facile fare delle cose con te oltre ciò che ti piace. Perché ciò che ti piace e non ti piace sono le compulsioni di base. Se dobbiamo aiutarti a uscirne, devi essere in uno stato piacevole. Se sei in uno stato spiacevole, non possiamo farti fare qualcosa che non ti piace. Farai solo quello che ti piace. Più le persone sono infelici, più insisteranno. Farò solo questo. Io sono così. Le persone gioiose sono flessibili. Puoi farle ballare, puoi farle piangere, puoi farle saltare. Faranno ogni cosa quando sono felici. Sono flessibili. Non perdere la tua flessibilità. Questa è la cosa più importante. Questa è la ragione per cui al mattino yoga, partendo dalla tua schiena, lentamente lavoreremo fino alla testa. Perché la flessibilità è cruciale. Se diventi fluido è ottimo. Dall'essere solido al diventare flessibile, puoi diventare fluido, puoi diventare gassoso, puoi diventare nulla. Questa sembra una progressione. Non è così? Quindi è importante che tu ti mantenga flessibile. La flessibilità non è possibile quando sei in qualsiasi stato di spiacevolezza, o nella mente o nell'emozione. Quindi è questo il motivo per cui essere gioiosi, essere amorevoli, essere felici, essere pacifici, è importante solo per questa ragione. Quindi non creare un doppio problema. Ne hai già abbastanza e queste non sono le uniche compulsioni che hai. Ne hai molto di più. E lo scopo stesso di Samyama è di tirare fuori tutte quelle cose che hai nascosto. Perché se lo seppellisci, crescerà solamente. Se seppellisci le tue patate, si moltiplicheranno e cresceranno. Il karma è come un sacco di patate. Più profondamente le seppellisci, più cresceranno. Quindi questo è il posto in cui tirarle fuori. seccale, in modo tale che non possano crescere di nuovo. Se ti sottoponi a una sadana abbastanza intensa, vedrai, quando esci nel mondo, così tante delle tue semplici compulsioni sono sparite. E ti dico, se avessi le compulsioni che avevi solo una settimana fa, non puoi stare seduto così. cosa che tutti voi state facendo meravigliosamente bene. Non puoi stare seduto quando ci sono compulsioni. Sì, e questa è quella assurdità, arriva. Non è che diventi libero al 100%, ma così tante delle tue compulsioni sono finite. Ecco perché sei in grado di star seduto. Tutto fa male. chi non ha male. Tutti hanno male, me compreso. Per me sono una gamba. Per te entrambe. Ho questa esenzione perché devo star seduto in molti samyama. Solo una gamba. Per te entrambe le gambe. Fa male. È tutto qui. Fa male. Voglio alzarmi. Ho fame. Voglio correre a mangiare. Mi sento così. Voglio andare a fare pipì. Questo è ciò che abbiamo superato. Molto affamato, ma non importa. Molto doloroso. Non importa. È una terribile compulsione. La maggioranza delle persone non la sopporterà per due minuti. Saltelleranno in giro. Ora, stai semplicemente seduto e qualcuno seduto accanto a te, anche loro fanno ba ba bu bu. stanno tirando fuori tutte le loro patate. Non solo le tue. Devi anche sopportare le patate circostanti. Le patate marce che si riversano dappertutto. Eppure, quindi non lamentarti. Vai alla grande. Ma ci sono ancora molte patate da tirare fuori. Devono essere tirate fuori ogni giorno. Ogni giorno. farlo solo una volta all'anno per sette giorni non va abbastanza bene. Ogni giorno, ogni giorno, le tiri fuori, le secchi e le tieni dentro. Le secchi a tal punto che non possono germogliare di nuovo. Allora va bene. Le patate sono utili. Non dovresti liberarti delle tue patate perché tutta la tua esperienza di vita se ne andrà. Semplicemente seccale in modo tale che non continuino a crescere. Ciò che c'è, c'è. La stessa dannata patata diventa un milione. Questa è una patata esagerata, non è così. Quindi le secchi le tieni per quello che è. Vedi, è così. Hai cinque minuti di esperienza intensa. Diciamo di dolore o paura o qualche esperienza straziante o qualcosa che per te è ripugnante. Cinque minuti. Questi cinque minuti di patate si moltiplicheranno e moltiplicheranno e moltiplicheranno e governeranno tutta la tua vita. Ovunque vai, è di questo che parli. Ovunque sei, è a questo che pensi. Se qualcosa si muove, pensi che la stessa cosa accadrà perché stai moltiplicando le tue patate. Le hai seppellite, e loro si stanno moltiplicando. Diventeranno milioni di patate dello stesso tipo, del tipo ripugnante. Ora, secca questa patata e tienila. È lì. È una buona esperienza. Se hai attraversato un'esperienza davvero brutta, è una buona esperienza perché queste sono inestimabili. Ciò che impari tramite i momenti spiacevoli nella tua vita è inestimabile. Se dimentichi quell'esperienza, sei uno sciocco. Solo uno sciocco cercherà di dimenticare. Se sei intelligente, devi ricordare ogni esperienza spiacevole che hai avuto. Senza risentimento, senza rabbia, senza spiacevolezza. Solo nella tua memoria, sempre. Così che tu non ti metta mai più nelle stesse situazioni di nuovo. Se bruci la tua esperienza, attraverserai le stesse assurdità di nuovo. Vogliamo solamente tirar fuori le patate, seccarle, in modo tale che non possano germogliare, ma vogliamo conservare le patate. Non vogliamo sbarazzarcene. Altrimenti sarai di nuovo uno sciocco ignorante che farà le stesse cose di nuovo. Il valore dell'esperienza di vita non può essere buttato via. Il valore di vita e di esperienza decisamente non può essere buttato via. è necessario se puoi tenerle a distanza e usarle come esperienza. Se lo lasci crescere dentro di te, allora semplicemente avvelena tutta la vita. Il karma. Il karma è l'unica cosa. Il ricordo dell'esperienza è l'unica cosa che può apportarti saggezza. Ed è l'unica cosa che può legarti. Ed è una cosa che può avvelenare così pesantemente la tua vita da poterti distruggere. Quindi il karma non è il problema. Come lo porti è il problema. Come lo porti è l'unico problema. Il karma non è il problema. è il problema. Come lo porti è il problema. Come lo porti è il problema. è il problema.